Allora, buongiorno a tutti da Fontana Luccia, siamo qua tutti riuniti sotto queste spole, qua due o tre anni fa c'era la Cinzia, c'era la Jennifer e tutti quanti, qua c'è il campanile di Fontana Luccia, l'altra volta l'avevo fatta dalla panchina di Fontana Luccia, ma questa volta ha cambiato posto. Volevo salutare tutti i miei amici di Milano, Bergamo, Torino e tutti quanti i miei colleghi di lavoro, che insomma oggi devo dire che è una giornata, come dire, fresca, bella fresca, bella fresca, bella fresca. Prandini, se venissi su, c'è il bel fresco come ti piace a te. Ascolta, io saluto tutti quelli dell'RCM, saluto Battacchio che è andato a Jesolo, adesso il 19 e quando magari tornerò a Farneto, magari io il 20, magari tornerò anche su, non lo so. Adesso bisogna vedere un po' la situazione, come si mette. Salutiamo tutti quanti, tutti quanti quelli che mi conoscono, ho anche trovato le cartoline a Fontana Luccia sperando di riuscirle poi a ingaggiare, spedirle. Salutiamo tutti, tutti quanti i miei amici anche di Facebook e oltre, oltre la manica, oltre all'estero, in Europa e tutti quanti il condito e insomma, tante belle cose. Ciao ciao da Rufus, da Fontana Luccia e tutto quanto. Là abbiamo il Calippo che sembra un gelato, volevo dire salutiamo tutti, la prossimo filmato magari ci vediamo a Farneto, ok vai. Ciao ciao da Rufus, ciao ciao da Fontana Luccia. Stacca, stacca. Stacca. Stacca.